È un quadro che rappresenta un altro versante della vita, rappresenta la realtà quotidiana della stragrande maggioranza dei contemporanei di Annibale Carracci. Che cosa vediamo? Vediamo un contadino, un bracciante, che alla fine di un lungo e faticoso giorno di lavoro sotto il sole, ha ancora in testa il cappello di paglia, si concede finalmente un pasto all'osteria. Che cosa mangia? Mangia una zuppa di fagioli, di poverissimi fagioli, e mangia fagioli è il titolo che tradizionalmente questo quadro si porta dietro. Vediamo un pane nero, come era il pane dei poveri, non certo bianco e raffinato, un mazzo di cipolle e poco altro. Il mangia fagioli trasalisce, alza lo sguardo dalla scodella, dal piatto e ci guarda dritto negli occhi. Una pittura capace di assicurare l'immortalità ai più deboli, ai più fragili, ai più poveri. Perfino un contadino, che alla fine della sua dura giornata può gratificarsi soltanto con una zuppa di fagioli, era degno di passare alla storia.